Parli pizzez Pizzez Blaz pizzez Blaz pizzez Perché tu non vorrei dormire alle nove? Ma non ce la faccio Non esiste che metto a letto alle nove No, tutti Io, Ramina, tu dormire Quando non c'è niente che mi interessa in televisione Non ci sono partite di calcio che mi interessano Calcio stamattina No, il calcio è sempre la sera si gioca Mai di mattina No, no, a tu guardare Domani sera c'è Tu guardare stasera Tu guardare stamattina No, non è possibile la sera Basta, non mi dire più Non mi farei dire minchia Mi cazzate che non sono d'accordo Blaz pizzez Blaz pizzez Non sono d'accordo, lo sai Vedi la televisione con me invece vedi E ascolti la sua italiana No, io vorrei tu carisma Chiarizmo non mi farei Vabbè, io faccio il cazzemiet Il cazzemiet Il cazzemiet Il cazzemiet Il cazzemiet Pizzez Parli biazz pizzez Parli biazz pizzez Parli biazz pizzez Biazz Biazz No, no, no Actività Charisma Creativa Saluta bene Alcetti stamattina Alle sei stamattina Alle cinque Alcetti Alle cinque Alcetti Che cinque Sì, ma perché no? No Di più attività Tu poi vado a studiare russa lingua prima Armi Alcetti Aviva Oppa Dav復 Troppo Grazie.